L'estetica come scienza dell'espressione linguistica generale è uno dei libri più famosi di Benedetto Croce, da cui è estratto questo brano, che tratta delle varie forme di attività dell'uomo. La conoscenza ha due forme. È o conoscenza intuitiva o conoscenza logica. Conoscenza per la fantasia o conoscenza dell'universale, delle cose oppure delle loro relazioni. È, insomma, o produttrice di immagini o produttrice di concetti. Il doppio grado estetico e logico dell'attività teoretica ha un importante riscontro, finora non messo in rilievo come meritava, nell'attività pratica. Anche l'attività pratica si ripartisce in un primo e secondo grado. Questo, cioè il secondo, implicante quello. Il primo grado pratico è l'attività meramente utile o economica. Il secondo è l'attività morale. E questa è la struttura da cui poi Croce parrà a discendere tutto il suo impianto idealistico. Ed è importante conoscerla se si vuole affrontare il pensiero del filosofo di Pescasseroli. Quindi, diciamo, la conoscenza attraversa queste due forme, può avere queste due forme. O è intuitiva o logica. O dell'universale o è fantasia. Delle cose oppure delle loro relazioni. O produttrice di immagini o produttrice di concetti. La somma antitesi in cui si racchiudono queste due forme è quella fra grado estetico e grado logico.